I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Napoli hanno tratto in arresto quattro persone, residenti in Napoli, per i reati di produzione e commercializzazione di banconote contraffatte. Gli indagati sono stati sorpresi e tratti in arresto mentre erano intenti a stampare e confezionare le banconote della nuova Serie Europa, pronte per essere illicitamente messe nel circuito legale. All'interno dell'opificio sono state rinvenute oltre 68.000 banconote contraffatte, per un valore nominale complessivo di oltre un milione di euro. In particolare, tra le banconote sequestrate, oltre a quelle del valore di 20, 50, 100 e 200, sono state rinvenuti anche numerosi biglietti da 5 euro. È stata sottoposta a sequestro la terzatura utilizzata all'interno dei locali per la realizzazione delle banconote contraffatte, quali stampanti, etichettatrici e tagliacarte. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso inoltre che i nuclei familiari degli indagati beneficiano del dedito di cittadinanza.